Sittin di cittadini, associazioni ed anche rappresentanti del Consiglio Comunale per denunciare l'annunciato taglio degli alberi sulla statale 80 a partire dalla rotonda in prossimità dell'ospedale San Salvatore del Capoluogo fino alla frazione aquilana di Arischia. Il taglio sarà operato dall'ANAS sulla scorta di tagli già avvenuti sulla statale 17. La motivazione è quella della sicurezza. Il capogruppo di Cambiare insieme al Consiglio Comunale dell'Aquila, Lelio De Santis, capeggia questo sit-in. Perché? Per una ragione semplicissima. La sicurezza stradale si può garantire in modi più giusti, più corretti rispettando anche l'ambiente. Mettendo dei dissuasori di velocità, mettendo dei quadrai limiti di velocità. Questo è quello che si fa normalmente. L'ANAS evidentemente pensa di eliminare il problema alla radice eliminando i pericoli che possono essere rappresentati dagli alberi. Ma secondo questo principio bisognerebbe eliminare tutto quello che è di ostacolo lungo questa strada, a cominciare dai muri, dai parapetti e via discorrente. Ma è assurdo e provocatorio. D'altra parte l'ANAS ha pensato il mese di aprile di fare una semplice comunicazione alla Regione e poi per silenzio assenso procede e magari incarica un'impresa e fra qualche giorno ci troveremo a contestare il taglio degli alberi indiscriminato. Noi non ci opponiamo al taglio di tutti gli alberi, ma solamente limitarlo a quello indispensabile. Il resto deve essere tutelato perché un albero adulto è fondamentale per la lotta al cambiamento climatico oggi. Oggi è una giornata di giugno, un caldo tremendo. Guardate dietro di me il traffico delle auto. Gli alberi riescono a mitigare il riscaldamento climatico e il trasferimento del PM10. Quindi avere alberi adulti è fondamentale per mitigare il cambiamento climatico.